Eccoci qua ragazzuoli, ero pronti con un'altra macchinetta abbastanza tosta da 45 allestita pure simpaticamente con questo grigio e giallo, come la vedete ed ecco un'altra macchina del Marco Zanni Motor Passion vi faccio vedere la violenza ragazzi, vi faccio vedere un po' di cose simpatico che sa se l'avete Martina impazzisce, Marti quanto aderesti per andarti a fare un'apertura con sta macchina Corso Francia terza, quarta, quinta col cambio automatico come la vedi, butti pure la sesta carrucetta ragazzi, guardate un po' l'allestimento, grigio e giallo, violenza inaudita non hai con questa violenza inaudita, batteria 12.18 devi stare calmo, devi stare carmelo buono Cobrignano, sei buono carina, vi gusta? di vostro gradimento? va bene dai per questa adesso mettiamo la targa pro, ci andiamo a fare due apertine simpatiche dai bella bella per tutti grazie a tutti grazie a tutti